Rifiuti biodegradabili, sfalci di potatura, residui vegetali, scarti di siepi, abbigliamento e prodotti tessili, imballaggi in legno, bancali, casse da imballaggio, pallet, cassetta da frutta e ancora altre tipologie di legno e plastica, rottami metallici, vetro e lastre, vernici, inchiostri, adesivi e resine e alcuni rifiuti urbani indifferenziati. Queste le nuove tipologie di rifiuti che potranno essere conferite dai cittadini al centro comunale di raccolta di Contrada Cammarella. Nella determina del 26 gennaio infatti è stata approvata la modifica della precedente autorizzazione al CCR in merito alla raccolta dei rifiuti differenziati conferiti dalle utenze domestiche e non domestiche attraverso l'integrazione di nuovi codici CER, cioè del catalogo europeo dei rifiuti. Abbiamo ampliato le possibilità che ci sono per il conferimento all'interno del centro comunale appunto di raccolta di Contrada Cammarella dove abbiamo ottenuto delle nuove autorizzazioni per quanto riguarda delle tipologie specifiche di rifiuti. Per intenderci sono state avviate e diciamo autorizzate alcune tipologie tipo gli sfalci di potatura, le lastre di vetro, le latte di vernice che tanta gente a volte chiedeva dove poterla andare a conferire eccetera e altre ancora. In questo momento il centro è già attivo e disponibile per quanto riguarda il conferimento degli sfalci di potatura. A breve faremo in modo che anche le altre tipologie che già appunto sono state autorizzate potranno essere appunto operative e quindi si potrà andare a conferire. Nei giorni successivi, nelle giornate successive, le settimane successive tutto questo sarà possibile e semplicemente la DASI all'interno di quegli spazi dovrà organizzarsi per poter appunto raccogliere questa nuova tipologia di rifiuto. Nessuna novità invece per quanto riguarda il conferimento nelle altre isole ecologiche. Intanto prosegue l'azione dell'amministrazione per arginare il fenomeno degli abbandoni dei rifiuti su strada. Continuano a ostinarsi, a volere rifiutarsi appunto di fare la raccolta differenziata e magari preferiscono di buttare i loro sacchetti e la spazzatura in qualche angolo, in qualche posto diciamo sperduto delle campagne. Ecco queste sono le attività sulle quali stiamo lavorando perché vogliamo che oltre ad aumentare la percentuale della raccolta e anche la bellezza del paesaggio non deve essere deturpata da queste azioni che sono assolutamente da condannare.